La morte è l'unico cammino che porta alla nascita. Violare la tomba di un faraone è sacrilegio. Potrebbero impiccarti per questo. Ho bisogno del suo sapere. Sapere? Per guarire l'umanità? No, solo mia sorella. Un opterodattilo, che storia è? Terrorizzeranno la popolazione, è questo che vogliono. Non sono stato io! È quel grosso uccello che ha fatto il colpo! Tra le ogni braccia! Professore, ascoltatemi. Ho ritrovato una mummia di patmosis. Buon viaggio, Mademoiselle Blancsec.